Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea che offre una visione coinvolgente e emozionante della crescita personale di un ragazzo, sia come sportivo che come individuo. La narrazione e le emozioni autentiche rendono questo libro non solo una storia sportiva, ma anche un viaggio di crescita personale e di aspirazioni che risuonano con chiunque abbia sogni e obiettivi da perseguire. La trama del libro Sognando Wimbledon, il 15 rosso dello scrittore Franco Zanichelli, casa editrice BookTribu, è la seguente. Questo libro è la storia di Marco, della sua crescita come sportivo e come uomo, delle sue emozioni, delle sue gioie e delusioni, del suo rapporto con gli amici, con i genitori e con il suo maestro di tennis, è la storia di uno dei tanti ragazzi appassionati di tennis che sognano di giocare un giorno a Wimbledon. Il torneo internazionale al quale Marco sta partecipando diventa così un primo importante risponso per capire se il suo sogno potrà diventare realtà. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.